Salve, siamo sempre noi e oggi proverò una moto quattro tempi 125 che è quella del mio bro Allora perché io sono abituato al mio bel usquarnello due tempi che comunque va, cioè ci sta Però questa è quattro tempi no? Quindi le differenze sono tante e oggi la testerò e vedrò come va Se si impenna, se cado, quanto si spacca, se riesco a scappare dalla polizia in quanto tempo Quindi adesso attacchiamo la GoPro sul casco e ci vediamo direttamente sulla moto L'altra volta che non è ancora uscito il motovlog però ho perso la pediverla dell'accensione Quindi adesso mi tocca accenderla a spinta in seconda No, non entra la folle Perfetto, ce l'ho fatta a metterla in folle Ma no, è vero che lui c'ha il deficit che non riesce a partire con la mia moto Ti prego Mattia Ciao